Qua sono sempre a Soragna, una bella locomoviglia a vapore, questo dovrebbe essere un lance, un bel Pasquale, un motore, un motocoltivatore, un Lamborghini, Fiat 503. Nandini, il Super, Deutz, Steyer, Bello, Steyer, il Noonfield, Fiat 80R, Orsi, Antec, una bella 500 Havert, un bel Deutz, un bel Landini, l'R25 dovrebbe essere, un povero Samycar, poi un Bondini Universale, Fordson, Desto, Fordson, Desto, Steyer, Steyer, Renault, Porsche, Goldner, Grandini 44 Maior, e Deutz.